Musica Prosegue nel Sannio il rilancio delle zone interne anche grazie agli eventi culturali a San Giorgio Lammolara nella rinata pinacoteica inaugurata anche una mostra fotografica Claudio Barontini fotos, i volti e la storia I volti della storia internazionale immortalati dal fotografo Claudio Barontini esposti in una personale da ieri presso la pinacoteca comunale di San Giorgio Lammolara in provincia di Benevento una mostra che segue quella su Nicola Ciletti sempre sotto la direzione artistica del professore Giuseppe Leone Attraverso i volti c'è questa narrazione della storia che è molto bella se uno guarda questa mostra è negli sguardi che trova l'anima e la vera immagine del personaggio Possibile ammirare gli ormai celebri ritratti fotografici scattati a Patti Smitter e Carlo d'Inghilterra Lindsay Kemp, Mario Municelli, Vittorio Gasman e tanti altri anche inediti Cerco sempre di contestualizzare il personaggio nel suo ambiente gli sguardi sono molto importanti perché alla fin fine raccontano la persona L'evento si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio di San Giorgio Lammolara attraverso la cultura Proseguiamo il cammino, siamo sulla retta via con il nostro direttore artistico Giuseppe Leone e sembra in qualche modo che stanno anche arrivando i risultati e quindi la cosa ci fa enormemente piacere Curatori della mostra Alessandro e Maurizio Eazeolla Noi siamo convinti che questo livello di mostre possa alzare molto il quosiente di appeal che ha San Giorgio Lammolara e poter richiamare visitatori e cultura soprattutto Finisce qui il nostro telegiornale in regia Orlando Matarazzo, grazie per averci seguito, arrivederci